Il coccodrillo come fa? Ciao, vi presento il Nido Sirena, una struttura dedicata ai bambini dai 3 ai 36 mesi, aperta tutto l'anno. I nostri spazi sono molto accoglienti, il personale è altamente qualificato e accreditato dalla regione Abruzzo per i servizi educativi all'infanzia. Abbiamo a disposizione un'ampia cucina interna e i pasti sono preparati nel rispetto delle indicazioni dietetiche dell'ASL, osservando la normativa ISO 9000. Il Nido Sirena si trova in Iaparri a Tortoreto Lido, in una zona molto tranquilla, con area verde attrezzata per le varie attività all'aperto.